24 ore dopo le dimissioni di Maria Rita Sgarlate è arrivata la nomina del nuovo assessore regionale al territorio. Si tratta di Pier Giorgio Gerratana, 31 anni, già consigliere comunale PD a Rosolini. Gerratana, come la coetanea, collega la formazione nell'iscilabra, arriva dal settore giovanile del Partito Democratico. Laureato in scienze politiche, imprenditore agricolo, componente della Confederazione Italiana Agricoltori, impegnato anche in attività antiracket e in passato è stato vittima di intimidazione. Una nomina che sul fronte politico non stempera le tensioni con il segretario del PD Raciti, che nei giorni scorsi aveva annunciato la revoca dell'appoggio al governo regionale. Il tipo di nomina del nuovo assessore infatti non accoglie di certo le richieste arrivate dai vertici regionali del PD in merito a una nuova composizione della giunta, dalla quale è stata tagliata fuori l'area Cuperlo, della quale Raciti esponente. Il mancato rimpasso infatti tra i principali motivi di contrasto tra il segretario regionale Crocetta. Di fatto il PD resta diviso sul sostegno all'attuale esecutivo. Per affrontare la questione dopo l'incontro all'arse di lunedì scorso con i deputati regionali, Raciti ha convocato per oggi un vertice di maggioranza nella sede palermitana del Partito Democratico. E le tensioni che continuano ad attraversare il partito e il governo sono inevitabilmente destinata ad arrivare all'assemblea regionale che in questi giorni sta riprendendo i lavori d'aula. Mercoledì prossimo infatti il governatore riferirà sulla situazione politica attuale.